E questo non so, non c'è più spazio a sto posto Ciao ragazzi bentornati sul mio canale ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video E indovinate che cosa faremo oggi? No, per tutti coloro che hanno pensato a pettinare le bambole avete sbagliato Oggi spacchetteremo cose, pacchi e non lo so Certo che a fare intro cringe sono proprio il numero uno, complimenti a me Cavolta a parte era da un bel po' di tempo che non facevo un video unboxing e la cosa in realtà si nota Ma non è la sola questione ed unica perché in questi giorni c'è stato come ben sapete il Prime Day E quindi un sacco di offerte e cose varie E quindi anche io ho approfittato di qualcosa ma non incredibilmente chissà quanto Però comunque lo scopriremo all'interno di questo video Quindi detto questo non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subitissimo E quindi finalmente rieccoci tornati in questa fantasmagoricissima serie che di tanto in tanto portiamo E prima di cominciare come al solito vi ricordo che tutti i link dei prodotti di oggi li trovate appunto qui sotto in descrizione Qualora vogliete dargli un'occhiata E soprattutto mi raccomando supportate il canale lasciando un bel like e semplicemente iscrivendosi al canale attivando la campanellina Quindi dopo averci incischiato anche forse fin troppo dire che possiamo iniziare col primo pacchetto di oggi Che, indovinato un po', arriva ad Amazon Strano ma vero Allora, il primo prodottino di oggi intanto che lì lanciamo subito le scasole Che bello, sto già pensando a quando dovrò mettere tutto a posto Dicevo, il primo prodotto che oggi vi vado a mostrare è esattamente questa Questa borraccia termica oppure termos chiamata come vi pare Che ho trovato in sconto proprio durante questo periodo del Prime Day Questa dovrebbe averla teoricamente pagata intorno ai 10 euro circa Diciamo che il colore su Amazon era decisamente un pelino più diverso rispetto a quello che mi è arrivato Però comunque insomma non è niente di troppo entusiasmante Un semplicissimo termos con anche all'interno una spazzola per pulirlo Ok, fantastico Ma beh, insomma per 10 euro ci può stare, non possiamo più di tanto lamentarci A parte per il colore che è un po' così Ma comunque andiamo avanti con il prossimo pacchettino di oggi Questo cubotto molto bello ciotto Non so se effettivamente esista il termine ciotto Però non lo so, nel caso vedremo Tempo che qui comunque spacchettiamo Magari scrivetemi anche voi qui sotto nei commenti Se avete usufruito di qualche offerta durante questo Prime Day Perché di forza ce n'erano davvero tante, soprattutto molto interessanti Esattamente come proprio questo prodotto E' esattamente l'MX Master di Logitech Un prodotto che ho aspettato di acquistare per diverso tempo Però visto che era in offerta ho pensato di farci un pensierino E questo teoricamente dovrebbe essere uno di quei mouse Tanto acclamati, tanto discussi Che mi ha suscitato davvero tanta curiosità nell'acquistarlo E quindi eccolo qui tra le mie mani Beh, anzitutto a livello di design molto 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 carino Cioè, ha queste rifiniture opache Si impugna davvero molto bene E poi la particolarità di questo mouse Che una volta levata questa pellicolina Ti permette di avere accesso a tantissime funzioni Una di queste è ovviamente avere questo robot qui al dito Beh, lasciamo stare Difatti questo mouse, oltre ad essere appunto wireless o bluetooth Ti permette di avere ben tre profili da poter collegare Insomma, a più dispositivi Che ne so, il nostro Mac, il nostro PC Windows E così via dicendo Insomma, a livello di impugnabilità Secondo me ci sta molto carino e ben rifinito Sono curioso di provarlo, decisamente Poi in confezione troviamo anche un cavetto micro USB Come potete notare Anche se probabilmente sarebbe stato più comodo Se avesse avuto il formato USB di tipo C Comunque, vabbè, non importa Perché adesso andiamo con il prossimo pacchetto di oggi Vediamo un po' che cosa contiene Questo è davvero bello bello pesantuccio E non so sinceramente che cosa possa contenere Quindi adesso lo scopriamo Uh, attenzione, attenzione Qui abbiamo un super mega spoiler I più attenti sicuramente avranno già riconosciuto il tipo di prodotto E questo, ripeto, è già uno spoiler Perché questa mi è arrivata Mi dovrebbe arrivare il pezzo ancora più gigante Importante E si tratta proprio di una bella stampante 3D a resina Infatti gli amici di Illigo, che ringraziamo Mi hanno inviato sia questo che anche la stampante Che mi dovrà arrivare E questa è sostanzialmente appunto la resina Che ci permetterà fondamentalmente di stampare cose Questo naturalmente lo vedremo poi con calma A tempo debito Ma per il momento ringraziamo gli amici di Illigo Poi andiamo avanti con quest'altro pacchettone gigante e rimone Ma perché devo sempre utilizzare termini più strani? Non lo so Oh, sì, 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 sì Finalmente Questo probabilmente è il pezzo migliore di qualsiasi unboxing mai fatto Infatti questo, come potete tranquillamente notare Legge adesso, non so se sia al contrario o meno Comunque guardate dalla foto È un mini condizionatore oppure mini ventilatore che fa cose Ebbene sì, perché questo è uno di quei prodotti che mi ha proposto un'azienda Completamente a caso in realtà E quindi visto che io dovevo comunque acquistare uno di questi cosi Perché il mio ventilatore USB si è tipo distrutto Ho detto, sai che c'è? Mandatemelo pure che lo utilizzo ben che volentieri Questo coso qui, oltre ad avere una batteria interna Che si può azionare tramite questa manopolina Mi permette di azionare questa ventola qui Che va a spingere aria fresca Aria fresca arrivante proprio da questo oggetto qui Che altro non è di un contenitore Che appunto contiene dell'acqua Una volta messo in freezer si appunto congelerà Insomma andrà a dare quell'effetto stile condizionatore Sparandoci addosso dell'aria fresca teoricamente Sicuramente è molto più facile a dirsi che a farsi Quello è poco ma sicuro Però comunque al di là della classica funzione Che ci permette di andare ad azionare la ventola Abbiamo la possibilità di accendere le luci Magari con quest'altro pulsante Forse no, forse sì Ah giusto, prima dobbiamo accenderlo Infatti vedete, si accendono le luci Inoltre l'ultima funzionalità è quella di avere questo pulsantino Che ci permette di azionare il nebulizzatore Questo indubbiamente uno dei prodotti che sono più curioso di testare E anche subito E detto questo direi che è giunto il momento del prossimo pacchetto di oggi Bella questa In partire questo è un prodotto arrivante dai nostri cari amici di Drevo Con i quali collaboriamo da un bel po' di tempo ormai Infatti in questi ultimi periodi stanno lanciando un sacco di prodotti Inerenti a quello che è il mondo wireless, il mondo bluetooth e cose simili E dopo aver testato il loro mouse Del quale poi vedrete una recensione più approfondita Mi hanno inviato anche questa tastiera qui Che secondo me dovrebbe essere davvero tanta roba In confezione naturalmente troviamo la tastiera Come normale che sia Poi il manoletto di istruzione Un manoletto di garanzia Ed infine in questo scomparto qui più nascosto Troviamo il cavetto USB di tipo C E una chiavetta bluetooth Bene sì perché questa tastiera qui funziona sia tramite bluetooth Quindi magari per PC Windows Che magari non hanno un ricevitore wireless Oppure tramite Mac Ma in quel caso sarà un gioco da ragazzi Perché non servirà nemmeno utilizzare la chiavetta Ah sì e poi tra l'altro in confezione Troviamo anche il pirulino Per andare a rimuovere tutti quelli che sono i keycaps Diamo una rapidissima occhiata a quella che è la tastiera Così appunto da vedere un attimino le prime impressioni Questo è formato naturalmente 60% come si può notare E teoricamente oltre alla colorazione bianca Gli ho chiesto se appunto mi potessero inviare Gli switch red Nella parte qui sul retro infatti possiamo scegliere Sia se appunto azionarla oppure spegnerla E utilizzarla tramite cavetto USB Oppure possiamo scegliere la modalità di tipo O bluetooth oppure wireless Tra l'altro non so se riuscite per bene a percepirlo Ma qui sulla parte del lato come potete notare Ci sta anche tutta quella che è la sezione alternativa Per chi utilizza la tastiera su Mac Infatti qui abbiamo il tasto option Che corrisponde al tasto windows E il tasto command che corrisponde al tasto alt Davvero davvero niente niente male come prodotto Bello solido soprattutto Poi il feeling che ha quando si premono i tasti E davvero niente 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 male Davvero grazie mille agli amici di Drevo Mettiamo tutto da parte e andiamo con Gli ultimi tre pacchetti di oggi Anche perché so qui che spacchetto da un'ora Andiamo con questo giganterrimissimo Arrivante da Arctic Le dimensioni del pacco come potete notare è davvero Bello generoso così come in teoria dovrebbe essere Il prodotto contenuto al suo interno Andiamo subitissimo con lo spacchettaggio Infatti oltre le documentazioni varie che mettiamo da parte Qui dentro ci sta esattamente uno dei prodotti Già sorrido Che di gran lunga ho aspettato per diverso tempo E sto parlando di un ulteriore dissipatore Tra l'altro qui ci sono cose che coprono Esattamente questo bestione che vedete Liquid Freezer 2 360 mm RGB Oddio ho perso tutte le polmoni per dire sta frase Fatto sta che comunque non è il sole ed unico prodotto Che mi è arrivato perché mi hanno anche spedito Un tubicino di pasta termica Ed è esattamente la MX-5 Pasta termica che in realtà avevo già comprato Ma che sicuramente male non fa avere Non mi metto sinceramente a smantellare tutto quanto Tenerlo fuori perché oltre al fatto che è davvero gigante Ma poi perché insomma non potrei farvelo vedere per bene Perché dovrei collegarlo al pc Insomma un casino Ma tranquilli perché questo lo vedrete molto presto all'interno di un video Non spoilerò quale ma insomma si può già intuire Ovviamente non posso che ringraziare naturalmente Ilka Spero di aver pronunciato il nome giusto Che come al solito ha una grande disponibilità E soprattutto pazienza Ma detto questo quindi andiamo con Per l'ultimo pacco di oggi Questo qui teoricamente dovrei sapere Andando per esclusione che cosa dovrebbe essere Infatti questo è un prodotto acquistato sempre al Prime Day E sto parlando proprio di un mouse Mouse sempre di casa Logitech Quindi Logitech per cortesia È già il secondo prodotto Potreste inviarmi qualcosettina no? Ma non so dico io E in particolare questo è un mouse ovviamente wireless Modello G305 Light speed E questo è il contenuto della confezione Bello ricco di accessori manualistiche Adesivi Una pila Attenzione Ci forniscono anche una pila in confezione Molto bene Il nostro mouse Che mette un attimino da parte E poi un cavettino Questo dovrebbe essere USB di tipo C? Anzi no Ma what? Non ho capito Abbiamo USB di tipo femmina E USB di tipo maschio Così Non facciamoci domande Vediamo piuttosto il prodotto Che il protagonista Ed è esattamente proprio questo piccolino Molto molto carino Nell'atto estetico Nella sua semplicità Colorazione bianca L'ho scelta Perché va appunto A fare pandan Con gli altri prodotti Che ho E devo dire che non mi dispiace Proprio affatto Davvero molto carino Poi una volta sganciato questa Oddio Ma che si appiccicano cose Dicevo Una volta tolto questo scompartimento Abbiamo accesso Naturalmente Alla chiavettina USB Per appunto collegarlo al PC E fare tutte le nostre cose del caso Ah Forse ho capito Praticamente sto coso Va messo qui all'interno E questo funziona tipo da prolunga Beh Scelta assolutamente non male Qui poi va messa la batteria Lui si accende Comunque lo metto da parte Perché questo magari lo vedrete In un video a parte Apposito Più avanti Non lo so Nel caso Rimanete aggiornati E direi quindi Che è arrivato il momento Di aprire l'ultimo pacco di oggi Nonché forse anche Quello più gigante E pesante di tutti E teoricamente Questo dovrebbe arrivare Da un'azienda Se non ricordo male Anzi In teoria dovrei ricordare proprio bene E all'interno di questa valigiettina in cartone Signori troviamo un oggetto Molto curioso Infatti questo dovrebbe essere teoricamente uno di quegli aspirapolveri Super mega piccoli compatti Smart Che permettono di pulire il nostro ambiente Fiedatevi che qui di pulizia ce ne vuole In maniera molto semplice e fast Che bello sto diventando un boomer Comincerò a raccintire aspirapolveri Fantastico Questo comunque a parte gli scherzi È il nostro prodottino in questione Molto carino effettivamente Naturalmente qui sotto abbiamo il vano Dove andrà a finire tutta la monnezza Che raccoglierà sto coso Ed in più abbiamo anche diversi accessori A partire da dei panni Tipo questi piccolini Microfibra Per andare a lavare il pavimento Così come anche questo Delle spazzole Qui molto carine anche queste La sua base di ricarica E ovviamente l'alimentatore Che oddio Ma ok Eccolo qui Qui ormai siamo ragazzi Diventati un tuttofare Siamo diventati anche recensori Di aspirapolveri E lo proverò Sicuramente Anche perché Anzi finirò questo video Lo metterò subito all'opera E se ovviamente varrà la pena Ve lo porterò magari all'interno Di qualche video di gadget Anche se questo è definibile gadget Più o meno Però comunque è smart Lo possiamo collegare tramite l'applicazione Possiamo gestirlo tramite l'applicazione Comunque detto questo In definitiva Io e il nostro amico Jimmy Perché questo lo chiameremo Jimmy Vi possiamo dire che per questo video È tutto Spero che vi sia piaciuto questo unboxing Spero che i prodotti di oggi Li abbiate trovati interessanti Ne arriveranno comunque altri Nel corso di queste settimane Ma vedrete poi più avanti Per bene Fatemi voi sapere qui sotto Nei commenti Che cosa avete comprato In questi periodi di offerte Tantissimo altro E niente Io vi ringrazio per la visione Come sempre ci becchiamo Alla prossima Vi saluto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti